Il premio letterario dedicato al giovane Alessandro Fariello, c'è il bando aperto e vediamo quali sono le modalità per poter partecipare a chi abbia ovviamente versi da proporre. Un premio per fare rivivere Alessandro Fariello, giovane barese ucciso dall'atrofia muscolare spinale, e il suo amore per la poesia che ha portato chi gli voleva bene ad organizzare questo concorso, sulle ali della libertà, il titolo. Poesia liberata, autore Costanza Ducci. Un applauso! Questa è la cerimonia di premiazione della prima edizione, è il 2021, 102 i componimenti arrivati, la vincitrice è stata la Ravennate Costanza Ducci. L'associazione Angeli Senza Frontiere, con un comitato, cure il concorso giunto alla seconda edizione. Anche quest'anno abbiamo riproposto questo premio nazionale di poesia Alessandro Fariello, sulle ali della libertà, un piccolo sunto che è Alessandro Fariello. Alessandro è il nostro socio onorario, un poeta di grumo affetto da SMA che purtroppo l'anno scorso ci ha lasciato, e quindi ci è sembrato il modo più opportuno per onorare la sua persona mettendo su questo premio nazionale di poesia. È un concorso nazionale assolutamente gratuito, composto anche da poesie, possono partecipare tutti, purché abbiano 18 anni compiuti. Il tema di quest'anno è la luce dell'umiltà. Le poesie possono essere inviate all'indirizzo premio alessandrofaviello.com oppure si può scrivere alla nostra associazione angeli senza frontiere 2018.com Per conoscere il vincitore bisognerà aspettare il 10 dicembre. Grazie a tutti.